ciao a tutti ragazzi e buongiorno benvenuti in questo nuovo video si lo so in questi ultimi due giorni non ho caricato nulla è strano perché comunque io sono uno che di solita meno un video al giorno lo fa c'è anche stata l'italia l'altra volta che ha vinto 6 a 0 e non ho portato nessun post partita ma vi spiego il mio motivo ragazzi perché perché sinceramente già per me questa amichevole era una amichevole abbastanza inutile perché comunque si sta vedendo ultimamente che la situazione comunque continua a peggiorare ora abbiamo visto che di juventus napoli ancora non si sa nessun verdetto la juve non vince 3 a 0 per il momento perché il giudice sportivo deve ancora vedere cosa decidere stiamo vedendo che comunque l'inter ha avuto il quinto positivo perché ci sono stati dei casi anche lì sembra che si stia iniziando a propagare la cosa quindi la mia domanda è molto semplice ragazzi secondo me a sto punto campionato può anche stopparsi perché il napoli ha chiesto un rinvio per tre positivi a breve ci sarà il derby tra inter e milan l'inter c'è in casa dei positivi e milan risulta che ibrahimovic è ancora positivo quindi cosa fanno rinviano anche loro cioè è un continuo rinvio sta cosa perché ogni volta che esce comunque un positivo in una squadra adesso le squadre possono continuare a rinviare come ha fatto il napoli diciamo quindi per questo non vi ho portato nessun più video perché veramente non per me è un campionato un po così avevo detto un campionato strano sono piatto strano e non ho portato post partita di dell'italia contro la moldovia perché fare un amichevole che non ha senso perché si è mi ha vinto 6 a 0 e visto dei nesti nuovi che hanno giocato bene ma era una squadra così facile da battere ed era amichevole così inutile in questa situazione d'emergenza che io l'avrei evitata perché poi rischi di mandare diciamo a rischio anche questi altri giocatori qua visto la situazione come già critica non possiamo continuare a rinviare le partite perché comunque poi nel calendario non ci stiamo perché le squadre che comunque hanno tre competizioni tipo champions league coppa italia e campionato se tu continui a rinviare le partite non sai dove incastrarle poi le partite da recuperare il genoa posso capire aveva più di 10 positivi si è giocato il bonus va bene ma se adesso anche il napoli e anche l'inter lo stesso milan che ancora questo è breve invece non ce l'ha perché risulta positivo sono partite corrotte cioè corrotte nel senso che la squadra non propone la massima qualità nella formazione perché alcuni giocatori sono in isolamento che non possono essere schierati e quindi ripeto non ho fatto video di niente neanche dell'italia perché mi sembrava una partita inutile e la situazione è critica perché ripeto dopo c'è il derby inter e milan penso che anche loro chiederanno rinvio come ha fatto il napoli perché giustamente se può farlo il napoli possono farli tutte le altre le partite si giocano o non si giocano più cioè ai due positivi rilascia in isolamento ai tre positivi rilascia in isolamento per il resto che non è positivo lo porta le partite e giochi perché se non giochi allora chiudi il campionato perché non puoi stare a rinviare sempre le partite è una situazione critica è pericolosa non giocate allora perché comunque la salute è importante non è pericolosa perché comunque sembrano tutti asintomatici i ragazzi però vogliamo cercare perché la gente normale muore i calciatori stranamente sono tutti asintomatici stanno bene allora giocate non puoi stare a pensare sempre al giugno sportivo e vedere quello che deciderà non puoi ragazzi non puoi quindi o si gioca o non si gioca basta fine ora c'è la nazionale domenica io ho voluto parlare un po un attimino con voi per dirvi la mia su questa situazione qua però non è bella perché oggi sono usciti i positivi dell'inter ieri oggi domani magari possono uscire possono uscire qui della juve ci sarà sempre qualcuno nuovo positivo e quello positivo che sarà in quella squadra poi andrà a sminchiare il resto dei compagni perché poi è una cosa che si trasmette quindi io domani non penso di farvi video ragazzi perché io la mia ve l'ho detta oggi quindi domani non penso uscirà qualcosa neanche stasera meno che non ci sia qualche caso di positiva eclatante di positività eclatante io non ne parlerò non farò uscire nessun video ci vedremo domenica con il post partita dell'italia che lì già la national league ha comunque più senso giocarla rispetto all'amichevole dell'altra volta quindi quello ve lo porterò però anche l'italia non capisco perché si è scesa ieri in campo esponendosi ad altri dischi niente ragazzi comunque se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like commentate se va fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa situazione se anche per voi è giusto chiudere o andare avanti il campionato anche se è sfalzato perché è sfasato e soprattutto se vi fa piacere anche iscrivetevi al canale qui dalle bianconi è tutto bello